Buonasera amici e amiche di Involum Right, siamo in compagnia di Massimiliano Manzini, referente della protezione civile. Una prima domanda, se mi puoi dire quante sono e quali sono le organizzazioni di volontariato che collaborano con la protezione civile convenzionate dalla città di Torino? Le associazioni di volontariato convenzionate con la città sono 11, vanno dalle associazioni che si occupano di trasmissioni radio, alla logistica, alla mediazione culturale, gli psicologi per i popoli, il sanitario e danno un supporto alla città in caso di necessità. Grazie, qual è il ruolo della protezione civile e delle organizzazioni di volontariato affiliate nei casi di emergenza? Il ruolo del volontariato è fondamentale perché comunque sono le persone, i volontari, che intervengono il prima possibile per dare una mano alla città per riuscire a sopperire all'emergenza e quindi fare il controllo eventualmente dei fiumi in caso di necessità, aiutare la popolazione in caso di bisogno, aiutare ad evacuare se è necessario come per esempio l'esempio di questo campo, evacuare delle zone e quindi portarle poi in zone sicure. Va bene, grazie, buona serata.